ciao da tutti e ciao da flavia le vostre domestic planner oggi vi proponiamo soluzioni evolute per viaggiare in auto in sicurezza con i vostri bambini la prima è dynamic di foppa pedretti nella versione dai 9 ai 36 chili che significa dai 9 mesi a più o meno 12 anni è davvero speciale perché garantisce massima sicurezza con l'innovativo sistema di protezione laterale e per far sì che il bambino viaggi con il massimo del comfort la seduta è reclinabile il poggia testa regolabile e il sedile anatomico vi precisiamo che esiste anche nella versione isofix il rivestimento con le imbottiture interne è rimovibile potrete toglierle quando il bambino cresce ed è tutto lavabile e poi c'è anche rolli fix questo seggiolino si può utilizzare dalla nascita fino ai 4 anni circa cioè fino ai 18 chili la sua caratteristica è di avere la seduta girevole e sì infatti è davvero molto molto pratico perché può essere posizionato verso la portiera dell'auto per facilitare così l'entrata e l'uscita del bambino e potrete utilizzarlo anche in senso contrario a quello di marcia e ricordatevi è importante per usare questo innovativo seggiolino l'auto deve essere predisposta con l'aggancio isofix inoltre rolling fix è davvero molto comodo anche la seduta reclinabile in più posizioni il poggia testa regolabile e le imbottiture laterali come il rivestimento sono rimovibili e tutte lavabili e adesso vi diamo una soluzione pratica per intrattenere i vostri bambini quando fate dei lunghi viaggi in auto mettete a disposizione giochini morbidi e altri intrattenimenti adatti a loro prendete un multitask come questo e riempitelo con tutti i giochini i bambini saranno felici e i genitori molto più tranquilli grazie a foppa pedretti la sicurezza in auto è totale tt e flavia a tutto c'è una soluzione soluzioni di casa.com